Ed ecco il nostro 2 giugno, mentre in tutte le piazze d'Italia si stanno svolgendo i flash mob contro il governo, noi non protestiamo contro il governo, noi facciamo quello che il governo dovrebbe fare. Come è promesso siamo tornati a Sansevero, abbiamo tentato di ripulire le aiuole di San Bernardino, le abbiamo accantonate qui, sperando che il buon sindaco Miglio tra un cambio di scorta e l'altro, tra un pianto e un lamento perché ormai è diventato vittima, si ricordi di far venire qui a raccogliere l'immondizia, non si devono sporcare le mani, perché ce le siamo sporcate noi, noi ce le siamo sporcate le mani, perché abbiamo raccolto le immondizie, loro magari ce le avranno sporche di altro le mani, ma sta alla magistratura a dirlo, nel frattempo ci interessa che venga qualcuno a raccogliere questa immondizia e che qui sul viale San Bernardino si mantenga la pulizia, perché anche questo è Sansevero, non solo la piazza centrale. Detto questo, noi lanciamo oggi, 2 giugno, da Sansevero, ARS, che cos'è ARS? Per qualcuno potrebbe essere in latino ARS, effettivamente ARS per noi è l'associazione di reinserimento sociale che avrà la sua sede nazionale qui a Sansevero, perché tante famiglie sono disagiate, tante famiglie hanno bisogno del reintegro e a tutti deve essere data una seconda possibilità. Noi diciamo addirittura una terza possibilità, lo Stato deve essere garante di tutto e di tutti. Ecco, questo è il nostro 2 giugno e vi saluto tutti quanti a Sansevero. Buon 2 giugno a tutti!